L'amministrazione comunale di Forio, guidata dal sindaco Francesco Del Deo, che politicamente parlando sarà ricordata come una delle peggiori compagini di governo della storia del nostro paese, in cinque anni non ha fatto quasi nulla per abbattere le odiose barriere architettoniche e garantire così il diritto alla mobilità dei diversamente abili. Spiagge e marciapiedi off-limits sono lo specchio di come le barriere architettoniche a Forio mortifichino ancora, dopo decenni, il diritto a poter passeggiare liberamente di chi è costretto a muoversi in carrozzina. E non c'è stato consiglio comunale in cui Domenico Savio, consigliere di opposizione e segretario generale del PCML, abbia chiesto con forza al Deo e i suoi l'abbattimento delle barriere, a partire dalla realizzazione di uno scivolo all'ingresso del nuovo municipio nell'immobile dell'ex hotel Green Flash, pedana che dopo anni di ripetute richieste, pare siano finalmente intenzionati a realizzare. Purtroppo anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Del Deo in questi ultimi cinque anni non ha fatto quasi nulla per abbattere le barriere architettoniche nel nostro comune. E questo per garantire ai disabili l'accesso alle strade, ai marciapiedi, agli uffici comunali. Basta solo vedere qui fuori, dopo le strisce pedonali per venire qui e entrare nel comune, non c'è lo scivolo né a salire né a scendere su quel marciapiede. E poi da cinque anni io in consiglio comunale in modo particolare tantissime volte ho chiesto al sindaco, all'amministrazione comunale, agli uffici di dotare l'accesso al municipio, sia questo esterno che quello interno di un passaggio per i diversamente abili, senza riuscire in cinque anni a ottenere questo intervento per garantire un diritto a tutti i disabili del nostro comune e non solo. Adesso pare che questo scivolo per i disabili possa farsi, l'amministrazione comunale pare abbia indirizzato verso la soluzione di questo problema, auguriamoci che sia fatto e al più presto possibile. E comunque vogliamo sperare che almeno prima del prossimo voto questo accesso per i disabili venga realizzato e che dunque si metta fide a questa situazione di inciviltà, perché si tratta di una situazione di autentica inciviltà laddove ai diversamente abili non viene consentito di accedere agevolmente agli uffici comunali. Grazie.